Nel futuro, le città assediate cadranno, le strade diverranno campi di battaglia, e quando anche la speranza soccomberà, la salvezza avrà i volti di due eroi. Ehi, perché ci becchiamo sempre i compiti più schifosi? Io voglio delle informazioni, dove cavolo sono finito? Perché voi due non mi piacete per niente. Il barone sta per finire l'ego, ok? E le teste di metallo non hanno molta pazienza. Credo che... mi stia succedendo qualcosa. È qualcosa che ha fatto! Non riesco a controllarmi! È stato grandioso! Mi sa che il mio successo con le donne è destinato a scemani. Jack è tornato! E questa volta è arrabbiano. È tempo di vendetta! Autunno 2003! Certo amico, conta pure su di noi!